Dice Gesù Quanto bene ho fatto con esse Voi mi date le vostre povere cose Sempre in crisi di umanità Sempre sporche da imperfezioni Non avete altro da darmi di più bello L'uomo anche il migliore Sinché l'uomo è sempre soggetto ad essere perfetto Quando sarete qui con me Non sarete più tanti Le vostre azioni sono sempre perfette agli occhi miei Ma io guardo al vostro sforzo e all'affetto Alla lettitudine con cui le offrite E non le sdegno, tutt'altro Le prendo anzi con amore e le santifico Le purifico con il mio contatto E fatte tutte sante pure Le uso per il bene del mondo E per il vostro bene O io sono un banchiero onesto e buono Non lascio inerti i vostri risparmi Non li uso per me o per altri Lasciando bene i primi difrutti Ma anzi tesaurizzo per voi Eppure spendendo le vostre monete Per i bisogni del mondo Con amore alcuno il frutto di esse Perché lo troviate al loro della morte E vi sia dote per entrare nel mio regno Poi dunque mi date le vostre povere cose Sempre imperfette Ma a me tanto care Le date a me Perché io, l'ho detto Tutto quanto fate di opere buone Alla e per il prossimo Vostro lo fate a me Ed è dare al prossimo Tanto dare il pane L'acqua L'ospitalità Aveste conforto L'insegnamento Per esempio Come dare per esso la vita Offrendola Per la salvezza di uno Di molti E per il trionfo del bene Del mio bene Del mondo Ma qualunque cosa Ambiate Pensate sempre Che non è per essa Che avete Quanto chiedete Ma per il vostro Dio Sono io Ossio l'altare Perché l'altare Sta rappresentando il trono di Dio Che vi faccio grazia Sono io Che santifico L'offerta E non L'offerta Che santifica Sono io Che voglio E posso E non voi Che potete E volete Quando facciamo il Padre O dite Fia Punta Stua Dovete pensare Che anche Nelle vostre richieste Dovete accettare La mia volontà E di concedervi Ciò che chiedete E non dire Ma io ho dato E devo avere Avete dato E che abbiate Una fede e fiducia D'altro grande In me Che vi va Impossibile Che io non intervenga A desaurirvi E per me Il dolce Di una carezza Di vivere Ma Se per un pensiero Che voi Non potete Comprendere Io non do Voi dovete Darvi non la carezza Ma il pace Forma di amore Più profonda Della carezza Il pace Della vostra Pronta Ilare Umile Santa Obvenienza E rassegnazione La mia volontà L'altare Da molto più Dell'offerta Che vi sta sopra Ed è l'altare Quello che parla Non confondete Perciò La cosa Con colui A cui la cosa È data Non vi voglio Chiamare Farisei Perché In questa Live Corpa Cadete Proprio Che siano I più Generosi I più Volenterosi Di amare La ricchezza E rettezza Di cuore I farisei Nel c'è Non ci sono Molti fuori E errori Voi avete Solo questo Nella vostra Attitudine Con Dio Ma Perché io Vi ho detto Siate Perfetti Levatevi Anche questo L'amore Quando avete Posto Sull'altare Il vostro Torno Quando avete Dato A me Dio vostro Le vostre Offerte Lasciate Che l'altare Le levi Lasciate Che Dio Le consagri Ricordatevi Di quando Su un po' L'offerta Io facevo Scendere Fuoco di vino Per consumarle In servizio Di gradito Dore Nessun Sacerdote Nessun Fuoco E' da più Di me Che prendo Il vostro Dono Lo consagro Lo consumo E lo uso Perciò Che trovo Utile Anche se A voi Così Non pare E nessun Dono Diventa più Bello Di quello Che viene Dato Non solo Come forma Anche Il pensiero Dato E una volta Dato Non più Ricordato Non alteriggia A quello Io Mi è stato Dato Mi basta La mia Intelligenza Per ricordarmi Di voi Mi basta Il vostro Sorriso Il vostro Dire Gesù Padre Per tenermi presente Come se il vostro Angelo Alzasse All'altezza Del mio sguardo La vostra Offerta Animo Pugni miei Il mondo E' feroce E' cosa che Passa Più Io resto Con la mia Buontà E con me D'esterno Molto Maradisiago Dove siete Attesi Per dimenticarvi In un'eterna Gioia Tutti Gli Orrori Della Terra Ecco A quelli A quelli che Stanno Incamminati Nella santità Perché Chi Si offre A Dio C'è Scusi Di A Un povero Mangiare Mere Dove Ospitalità Insignamento Ascolto Oppure Una vita C'è Una Neanche Non Propricita Allusione A chi Si offre Come vittima Era la prima Apparizione Di Fatima Se non ricordo Ma L'ultimo giorno Con una Madonna Chiese Pastorelli Volete Offrirvi Come vittime Sull'altare Del mio cuore Immacolato Come atto Di riparazione Per i peccati Con cui Dio Offese Vi Supplicavo E la Conversione Dei peccatori E Lucia Risposto 9.3 Si Non vogliamo E sull'altare Del mio cuore Immacolato Dice La Madonna Qui Gesù Specifica L'altare Lui E Molto Bello Dice Anche Delle cose Riguardate La Purificazione Delle Nostre Imperfezioni Strutturali Sono Queste Sirentriche Che Sirentriche Dice Attribuendole Al ruolo Che la Madonna Svolge Quando Ci si Consagra Totalmente A Lei E questo Appunto Molto Molto Importante Non so Quanti Di Noi Io Vi auguro Di poter Avere Questa Grazia Hanno La Percezione Profonda Salientiale Della Nostra Radicale Imperfezione Non possiamo Amare Tutto Quello Voglia Ma Un'opera Perfettissima Agli occhi Di Dio Non Possiamo Amare Non c'è Nessuna Speranza In Questo Mondo Certo Noi Sappiamo Che Abbiamo L'aroma Di Maria Acquidiamo Tutto Perché C'abbiamo Adesso L'aroma Di La Volta A Maria Ha detto Altro Gesù In Contemporanea Qui Era Quora Viva Anche Siamo Nel 44 Con Luisa Morta Nel 47 Anche Se L'Ibio Dice L'hanno Già Finiti Abbiamo Quest'altra Arma Di 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 Una Volta Questa Una Grande Arma Ma L'atto In Quanto Fu Riuscente da noi E' strutturalmente Perfetto Perfetto Vuol dire Che ci manca sempre qualcosa O che è avviziato Da qualcuna delle nostre Ataviche Tale Di ci portiamo Dietro Possono essere infinite Non so se il cavo Di fare qualche Qualche esempio Può essere La soberbia Il desiderio Di apparire Di piacere All'uomo Oppure Di Pensare Di Valere qualcosa Agli occhi del Signore Come fa questi esempi O di essere Perché abbiamo fatto qualcosa In diritto Di avere qualcosa Da Lui E lui dice Vi accorgo Le vostre offerte Per caricarle E ricami Ma dite sempre Chi è la tua Non tastura Perché se io non vi do Quello che desiderate Perché c'è un motivo Per cui non conoscete Più grande E quindi Il ricambio Di quello Che non vi do Non solo Date una carezza Stavate più basso Dice Che è una forma Di amore più profonda Della carezza Ciò è la vostra Pronta Di dare Umile Ubbidienza D'assegnazione E non pensiate che Pagga qualcosa Quello che mi offrite Di per sé Ma ricordate Che è una cosa Vale Perché sono io Come altare Che la prendo La manzano E la offre Quindi levatevi Questa cosa Questa è una piccola Perfezione Non è tutto sto Però Siccome Siete perfetti Togliete anche Togliete anche Questa cosa No Ecco Il contesto Veramente In cui Gesù Dice Tutto questo Così concludiamo È il contesto Del mondo Feroce È il contesto Degli orori Della terra Quindi Penso che Il mondo È sempre stato Feroce Ecco Gli orori Della terra Sono sempre Stati Murosi Quindi Sant'Agostino Diceva che Non è saggio Pensare Che i tempi Nostri Sono peggiori Che i tempi Che ci hanno Recevuto Ecco Questo sì Certamente Mi è rimasto In vero Però Come ben sappiamo Stiamo a duemila anni Dalla opera Della tradizione E sappiamo Che quando ricorre Il duemillesimo Sono tempi Di grandi Trasformazioni Duemila dopo la creazione C'è stato il dilunio Adesso Non sono il solo A dire da anni Queste cose Insomma Che l'industria E il padre Il libro Somma Che ne parla Apertamente Pubblicamente Stiamo in tempi Di primo Combattimento Scatologico Quindi certo Che i tempi E gli errori Del mondo Ci sono sempre stati Però Questo è un momento Particolarmente Delicato Particolarmente Dobbiamo essere Vonti Dobbiamo essere Vonti E il segreto Il libro È l'offerta Di noi stessi La consapevolezza Del nostro Nulla E L'obbedienza E l'assimilazione E l'assimilazione Alla divina Volta Questo è un messaggio Che Gesù ci lascia In questo In questo brano E lo facciamo Nostro Dobbiamo essere Una gioia In più Perché comunque Un giorno in meno Magari ce ne saranno Poi provate Ma è stato un giorno in meno E niente non è E ciò Comentiamo